Credo che l'auspicio più grande che abbiamo sotto l'albero, che io ho sotto l'albero, è di trovare finalmente un po' di tranquillità dal punto di vista politico, un po' di stabilità, in modo da poter traguardare la seconda metà della legislatura e alla fine della legislatura, con un po' più di serenità dal punto di vista politico, perché è vero che questa crisi, come abbiamo sempre detto, è una crisi che è stata gestita fuori da palazzo, nel senso che sono delle questioni che i movimenti politici hanno cercato di risolvere per dare una maggiore stabilità a questo governo. Il governo è comunque andato avanti, ha cercato di fare il meglio che era possibile a fare con la possibilità attuali, però è chiaro che comunque ha influito sulla serenità del lavoro, quindi quello che mi auguro sostanzialmente è serenità e stabilità per la nostra regione.